Sì 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 se io smetto di fare trap io comunque vorrei solo vedere questi pagliacci del governo ora che cazzo si inventano per quanto riguarda le tasse l'iva e tutte le imposte perché noi siamo italiani quindi è capace che i politici invece che diminuirle come penso faranno tutti i paesi normali del mondo noi siamo italiani, magari le aumenteranno si inventano qualcosa e zio e dom perché a me il zio c'aveva paura di volcani però con il volcani che non è stato c'aveva ancora più paura di più saltare a me a me a me a me Grazie a tutti.